Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qui con voi per parlarvi di Apple Watch serie 4, io lo possiedo da qualche settimana ma lui ormai è uscito da diversi mesi parliamo di quasi un anno e penso sia arrivato il momento di dirvi qualcosa su di lui ma non una classica recensione perché ormai ce ne sono già tantissime in giro e ormai non c'è niente da scoprire riguardo questo prodotto ma vi voglio dire 5 cose che amo e 5 cose che invece amo decisamente meno per non dire proprio odio perché vi sembra un parolone riguardo questo prodotto sicuramente sono maggiori vantaggi soprattutto per chi possiede altri prodotti Apple ma adesso voglio andare un pochino più nel dettaglio in questo video ma adesso sigla partiamo subito col primo aspetto che è stato migliorato rispetto alla vecchia generazione ossia il display adesso è molto più ampio in questo momento il modello da 44 mm che il modello più ampio e già il fatto che il modello più ampio sia passato da 42 mm a 44 mm vi fa capire che lo spazio a disposizione è molto maggiore abbiamo gli angoli sui bordi curvi quindi una maggiore immersività e si segue effettivamente la linea del design dell'Apple Watch sembra un display quasi a tutto schermo con delle cornici molto ottimizzate si tratta di un OLED quindi con dei neri assoluti ma soprattutto una luminosità sotto il sole pazzesca io non ho mai trovato difficoltà a leggere l'ora i dati sotto nessun tipo di condizione atmosferica anche veramente sotto il sole diretto pieno d'estate non ci sono grossi problemi e soprattutto lo spazio a disposizione ora è veramente molto di più non ho grossi problemi a digitare numeri anche certe volte a rispondere quindi adesso è un prodotto secondo me molto molto utilizzabile anche in maniera attiva ecco scrivendo sul touch cosa che magari prima con le vecchie dimensioni non era così immediato fare il secondo aspetto che sicuramente mi piace di questo Apple Watch serie 4 sono le prestazioni io personalmente venivo da un Apple Watch serie 1 non proprio il primissimo ma il refresh della prima versione e il passo avanti a livello proprio di prestazioni è esagerato non c'è un minimo rallentamento certo le applicazioni non sono ancora secondo me proprio ottimizzatissime alcune non si aprono in maniera immediata ma secondo me non è un problema di potenza di Apple Watch ma proprio di alcune app che non sono state sviluppate ancora al meglio per lo smartwatch mentre le applicazioni preinstallate quindi che ne so calendario chiamate sms riproduzione musicale tutto si apre in maniera molto molto veloce e abbinato ovviamente al display di cui vi ho parlato prima rende l'esperienza generale di tutti i giorni veramente di altissimo livello terzo aspetto che mi piace ma che mi potrebbe secondo me piacere ancora maggiormente è l'autonomia diciamo che non è lo smartwatch che dura di più in generale ma nonostante le tantissime notifiche che io ricevo quotidianamente è uno smartwatch che mi fa in ogni caso due giorni di utilizzo molto molto intenso difficilmente vado oltre nelle giornate veramente stracariche in cui magari faccio anche le chiamate direttamente dallo smartwatch il dato diventa minore ma è uno smartwatch che non devo ricaricare ogni sera e questa cosa in certe situazioni mi può tornare molto utile certo non arriviamo magari alle autonomie di penso mi band 4 che ho a quest'altro polso con cui arrivo facilmente ai 15 giorni però ecco non è uno smartwatch che non mi fa concludere la giornata che per me è la cosa più importante di tutte mi è capitato in passato di provare smartwatch che non arrivavano a fine sera e quello era veramente un problema mentre con questo qui i due giorni sono facilmente alla portata quarto aspetto che riguarda sì questo apple watch ma riguarda un pochino tutti i prodotti apple riguarda l'ecosistema perché non solo questo apple watch 4 comunica con l'iphone perché è facile pensare che questi due comunicano perché l'associazione avviene tramite iphone ma penso per esempio anche al al mac dove io posso sbloccare la pagina di login al mio account semplicemente tenendo al polso l'apple watch o ancora posso comunque utilizzare l'apple watch per pagare con apple pay e salvarmi magari non solo le carte di credito ma anche i biglietti aeroportuali direttamente sull'apple watch quindi se si utilizzano tantissimi servizi apple questo apple watch serie 4 ma anche quelli precedenti avranno sicuramente una marcia in più quinto e ultimo aspetto che apprezzo tantissimo di apple watch serie 4 che non è proprio interno allo smartphone ma più esterno riguarda gli accessori infatti apple watch e secondo me lo smartwatch anzi senza secondo me lo smartwatch con più accessori al mondo sembra tanto uno slogan alla team cook ma è effettivamente così quindi si trovano cinturini case di protezione pellicole in vetro qualsiasi tipo di accessorio potete pensare di avere per questo smartwatch sicuramente lo troverete e non per forza dei prezzi elevatissimi come magari suggerito da apple per gli accessori originali ormai i cinturini si trovano facilmente al di sotto dei 10 euro ci sono anche i caricatori che devono essere sì certificati da apple per essere più tranquilli ma che non sono per forza le cifre proposte da apple e quindi la scelta la varietà degli accessori sicuramente una marcia in più per apple watch serie 4 vi ho parlato di 5 aspetti che ho amato di apple watch ma adesso vi parlo anche di 5 aspetti che non ho particolarmente apprezzato e che vorrei che apple watch risolvesse o comunque migliorasse nel futuro vi ho parlato di ricarica proprio nell'ultimo punto con gli accessori esterni e questo secondo me è uno degli aspetti peggiori di apple watch sia che si ricarica in maniera wireless appoggiandolo sul pad ma è una ricarica wireless proprietaria non è la classica con cui sono compatibili tutti gli smartphone per esempio tra cui anche iphone quella iq ha una una tecnologia di ricarica proprietaria in cui ci deve essere il bollino made for apple watch quindi i prezzi sono molto più elevati perché la tecnologia non è così diffusa e sicuramente questo qui ne limita le possibilità nel momento in cui magari sono in viaggio mi porto un anche un power bank con la classica tecnologia di ricarica wireless eq e mi devo portare comunque un accessorio ulteriore per l'apple watch spero che in futuro l'apple watch possa essere compatibile anche con i tappetini che sono più diffusi sul mercato secondo aspetto che vorrei migliorasse e il design sia chiaro apple watch 4 non è affatto uno smart watch brutto anzi secondo me tra i più eleganti anche tra i più personalizzabili come vi dicevo prima grazie alla miriade di accessori però è un design praticamente identico da 4 5 6 anni adesso non ricordo da quando è uscito il primissimo modello di apple watch ci sono stati sì degli affinamenti soprattutto con quest'ultima versione ma vorrei magari una versione anche circolare quindi rotonda con la cassa rotonda che io apprezzo sempre molto perché ricorda molto di più un orologio un orologio classico invece abbiamo sempre questa forma quasi squadrata ma con gli angoli arrotondati che si piace ma dopo un po si sicuramente potrebbe stancare chissà che in futuro e poi non ci proponga due versioni una un po più squadrata e una più moderna con design rotondo terzo aspetto che vorrei che apple watch migliorasse riguarda la personalizzazione interna non quella esterna su quella esterna ha detto che gli accessori non mancano mentre a livello di software si le watch face non sono pochissime ma dopo un po iniziano a stare strette non c'è apertura verso altre tipo di watch face esterne magari create dagli utenti ci sono dei metodi un po non facilissimi per installare watch face alternative ma non è una operazione alla portata di tutti vorrei una maggiore apertura verso le watch face esterne in modo da poter installare tranquillamente tutte le watch face che vogliamo sia di apple sia di utenti esterni sul nostro smartwatch chissà che in futuro magari questa possibilità non arrivi nativamente all'interno dell'app per apple watch mentre gli ultimi due aspetti che non mi piacciono particolarmente sono collegati e riguardano il prezzo e la durata del tempo se parliamo di orologio effettivamente apple watch è molto più avanzato rispetto ad un classico orologio ma il prezzo e soprattutto la durata nel tempo ne limitano secondo me l'idea di valore e valore anche nel tempo penso per esempio ad un rolex un rolex che magari può costare molto di più ma non scade non non invecchia dopo dieci anni magari diventa anche più bello e diventa più ricercato sul mercato apple watch invece a un prezzo di lancio comunque altissimo perché parliamo di se non ricordo male 400 e passa euro di partenza per l'ultimo modello è ovviamente un prezzo che poi scende col tempo è un oggetto che effettivamente scade perché la tecnologia va avanti non può essere mantenuto troppo nel tempo a meno che davvero non si voglia solo guardare l'ora e in se lo valutiamo effettivamente con uno come un orologio questo qui è un enorme difetto rispetto ai classici orologi quindi un orologio costoso oggi apple watch e che sicuramente rispetto ad altri orologi di lusso ha un difetto sia che non mantiene il suo valore nel tempo bene ragazzi con questo concluso spero che questo video vi sia piaciuto in tal caso fatemelo sapere qui sotto con un bel mi piace potemi sapere la vostra su apple watch serie 4 cosa ne pensate quali sono gli aspetti che amate maggiormente quelli che invece vi fanno un po' storcere il naso se siete d'accordo con me se siete in disaccordo mi raccomando facciamolo sempre con la massima civiltà mi raccomando iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun video nel momento in cui questi escono io ho davvero concluso sono Tony Cassano ci vediamo in un prossimo video sempre qui su tuttatec.net